Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Non si giocava solamente Manchester City-Liverpool Ma si recuperava anche la giornata della Liga tra Villareal e Real Madrid Il Villareal recuperava la parità giocata e non giocata durante il Mondiale del Pre-Club Quindi ha recuperato questa partita contro il Villareal Finisce 2-2 e Real Madrid è inguagliato ragazzi È inguagliato perché questo pareggio beffa Arrivato ovvero nei minuti finali al 82esimo È un pareggio beffa perché in realtà erano due punti molto molto importanti per la classifica Per quanto riguarda la classifica che poteva agganciare il Sevilla a 32 punti Invece si ritrova quarto in classifica Già un buon risultato per come Real aveva iniziato il campionato Quindi è il quarto posto, cioè qualificazione alla prossima Champions Però meno 7 dal Barcellona capolista E i 7 punti sono veramente tanti Ci sono veramente tanti perché a questo punto del campionato Recuperare 7 punti al Barcellona non sarà assolutamente molto semplice E Villareal e Real Madrid quindi 2-2 Grande il fenomeno ragazzi Santi Casorla Santi Casorla ha fatto una doppita eccezionale Il primo gol Difesa del Real un po' immobile Lui però è stato bravo a metterla al giro Poi grande Karim Benzema che al settimo minuto dopo il gol subito al quarto Pareggio subito la parita, la grande attaccante E il Real va anche Va avanti con Rafael Varane Gran colpo di testa però lì forse la difesa della Villareal poteva fare molto molto meglio Poteva fare meglio il Real che un po' si contiene E forse se avesse fatto il terzo gol il Real questa parita l'avrebbe anche portata a casa Invece Santi Casorla all'ottantaduesimo Il pareggio Beffa, ripetiamo, il pareggio Beffa della Villareal Che prende un punto importante per quanto riguarda la classifica Perché si porta 16 punti E si toglie dalla zona un po' a rischio Anche se rimane comunque quarto ultimo In una situazione assolutamente non semplice di classifica per quanto riguarda la Villareal Però è un punto importante perché almeno non è terzo ultimo Non è terzo ultimo in classifica quindi a rischio retrocessione Però comunque sarà un cambiato molto molto difficile per il Villareal Villareal che quindi ci salva grazie all'ex Arsenal Santi Casorla Un gol di testa però lasciatemi dire che la difesa del Real ha subito un po' due gol Che una difesa come il Real Madrid non dovrebbe prendere Non dovrebbe prendere Però comunque ci sono state delle reazioni E comunque sembra sempre una squadra altalenante Tanto tanto altalenante il Real Madrid Io pensavo in una vittoria modestamente del Real oggi Scusate ieri sera contro il Villareal È stato un paleggio che comunque beffa Perché comunque ha fatto perdere due punti molto molto importanti per la classifica E adesso sette punti sono tanti Siete punti sono tanti Si torna in campo comunque nel weekend Tra il 5 e il 6 di gennaio Grandi partite Il Real Madrid impegnato comunque in casa contro la Sociedade Il Barcellona invece impegnato contro il Getafe Saranno dei puntamenti molto molto importanti Staremo a vedere comunque anche Atletico Madrid e Sevilla sono messe bene in classifica Campionato aperto Campionato aperto però il Real ha perso una grande occasione Di ricucire questo distacco dalla Barcellona Quindi Villareal-Real Madrid 2-2 Santi-Casorla l'eroe della serata Per questo video è tutto Vi ringrazio per l'attenzione Lasciate like al video Iscrivetevi al canale E seguitemi anche su Facebook e Instagram Ci vediamo al prossimo video Ciao